rovigo tv sei tu rovigo tv sei tu prossimamente il vero unico grande protagonista di rovigo tv sei tu realizza un filmato amatoriale di due minuti con le tue feste le tue serate le tue esibizioni i momenti più goliardici e divertenti con i tuoi amici rovigo tv sei tu la redazione sceglierà i video più originali che saranno online sul nostro sito invia un file video a infochiocciola rovigo tv punto it e sarai protagonista su rovigo tv punto it rovigo tv sei tu rovigo tv sei tu è 1 2 3 4 Grazie per la visione!